Ed è capitata questa prima batteria categoria allievi massi, anche per loro saranno 10-15 Sono 17 i partenti, questa prima batteria saranno già alle 24, al prossimo giro saranno a Campan Siamo con la campana Siamo con la riproduzione, sono 17 i partenti, a Campan c'è un po' più di 1, sono 20 i partenti Siamo con la campana, il loro momento, un po' più venere a un po' più di 1 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.